Ermal Meta, Non abbiamo armi, il nuovo album per la prima volta in concerto. Sabato 28 aprile al forum di Assago, Mi, verrà presentato dal vivo in anteprima il nuovo album di Ermal Meta intitolato Non abbiamo armi, una grande produzione, una nuova e rica cornice scenografica per un grande spettacolo. Scopri di più su www.mescalmusic.com. Prevendita in esclusiva per gli ascoltatori di Radio 105. Radio 105 sarà radio ufficiale e per la prima volta nella sua storia offrirà un'opportunità unica a tutti i suoi fedelissimi ascoltatori che dalle 9.00 di martedì 09 gennaio fino alle 23.59 di venerdì 12 gennaio potranno acquistare in anteprima esclusiva i biglietti di Ermal Meta. Per acquistare i biglietti sarà necessario registrarsi o effettuare il login su 105.nee, cliccando sull'apposito bottone, richiedere il codice alfanumerico. Una volta ottenuto il codice sarà possibile scegliere se andare direttamente alla pagina ticchettone.it barra radio 105 e acquistare i biglietti, acquisto massimo consentito 4 biglietti per utente, disponibilità limitata, o stampare il codice e andare sulla pagina ticchettone.it barra radio 105 in un secondo momento. I codici saranno disponibili non prima delle ore 09.00 di martedì 09 gennaio e saranno validi fino alle 23.59 del 12 gennaio. La presale esclusiva avrà inizio dalle ore 9 di martedì 09 gennaio fino alle 23.59 di venerdì 12 gennaio. Grazie a tutti.